La relazione di oggi è dedicata all'analisi armonica, non c'è nessun velecato di ripercorrere ciò che forse qualcuno di voi ha già studiato in corsi precedenti, per esempio in un'analisi si fa, quanti di voi sanno di che cosa si tratta? Quando uno dice analisi armonica, oppure contenuto armonico, oppure integrale di Fourier, quanti di voi hanno mai avuto percezione di queste parole, di queste frasi? Nessuno. Qualcuno sì? Perfetto. Perché noi ci facciamo una ripassata di questi argomenti, perché ricorrono molto spesso lo studio e problemi relativi al contenuto armonico di molti segnali, che sono rappresentativi di grandezze elettriche, maglietiche, all'interno delle macchine elettriche e dei dispositivi elettromeccanici. Questi segnali, queste grandezze, molto spesso sono i cambi magnetici, ad esempio i cambi magnetici a traferro. I cambi magnetici a traferro noi, come vedremo fra alcune lezioni, li immaginiamo a essere molto semplici, avere una distribuzione, per esempio, sinusoidale lungo il traferro, quindi ad esempio immaginiamo che il campo a traferro di una macchina elettrica sia del tipo di massimo per esempio un seno dell'anomalia, quindi dell'angolo geometrico, seno di theta lungo la periferia della macchina, lungo il traferro di una macchina elettrica. Quindi se questa è la macchina elettrica e questo qui è il traferro, qui abbiamo un cadore e qui un colore, allora fissato nel punto di riferimento iniziale, l'angolo theta, per esempio potrebbe essere questo, quindi noi noi qui scriviamo B uguale a B seno di theta, intendiamo ad esempio il valore di B di theta in questo punto qui, riferito a un punto di partenza che è quello di riferimento. E quindi per esempio, io sto scrivendo questa relazione solo come esempio, per esempio potremmo scrivere una relazione G, ma questo potrebbe essere non solo B, potrebbe essere anche il campo H, oppure la distribuzione delle correnti nell'immediato vicinanza al traferro ma sullo statore, oppure la distribuzione di correnti nell'immediata vicinanza al traferro ma sul rotore e così via. E quindi di volta in volta questa grandezza qui può essere sostituita formata. Se questa distribuzione fosse veramente sinusoidale, per noi sarebbe un grande vantaggio perché si semplificherebbero molto i calcoli, sarebbe molto più facile esattuare il valore della coppia e gli sforzi elettrodinamici in generale. Però sia B che il campo H, che altre grandezze come anche la corrente I, per esempio la distribuzione di corrente I, non sono per nulla sinusoidali. Quindi lungo lo spazio, lungo lo spazio rettico della macchina, quindi lungo il traferro, noi possiamo avere delle distribuzioni che potrebbero essere anche ad esempio di questo tipo qui, per esempio. Quindi questo è un diagramma in funzione dell'angolo θ, e questo qui per esempio potrebbe essere il campo H di θ, il campo H di θ in funzione appunto dell'angolo θ, quindi la distribuzione del campo H lungo il traferro, dovrebbe avere una forma del genere. Potrebbe avere anche forme diversissime, diciamo che però una delle caratteristiche, una delle cose più importanti di questi segnali è che sono periodici nello spazio, cioè una volta raggiunto 2π, questo segnale si ripete identicamente così come sarà fatto dal 0 a 2π, quindi da 2π a 4π, naturalmente questo segnale si ripete. È un fatto ovvio quello che vi sto dicendo e dall'altra parte, dopo 2π io ritrovino nella stessa posizione originale, quindi non può che essere così. Il fatto che sia periodico quindi suggerisce la possibilità di fare un'analisi armonica di questo segnale, cioè scomporlo in tante parti, cioè scomporlo nelle sue componenti armoniche che sono tutte componenti sinusodali o così come ho disegnato o immaginato, nel caso più semplice possibile potesse essere una distribuzione di questo tipo qui. Una piccola parentesi che purtroppo io faccio spesso. voi spesso avete, quando si parla di un'analisi armonica, spesso avete avuto a che fare con segnali nel tempo. Qui invece abbiamo fatto un segnale nello spazio, in particolare nello spazio elettrico del telefono, cioè abbiamo usato come variabile dell'asse delle ascizie un angolo beta. Probabilmente, in altre situazioni, voi avete avuto a che fare con tre segnali espressi nel tempo, per esempio un segnale così da qua, una funzione del tempo così. E quando fate l'analisi armonica, fate un'analisi armonica appunto nel tempo e il risultato che vi viene fuori è una serie di armoniche che sono, diciamo così, vincolate, sono fissate nel mondo del dominio della frequenza, perché ovviamente la frequenza, la variabile è quella inversa rispetto a quella variabile di partenza. Quindi alla fine esce fuori un cosiddetto spettro di frequenze, cioè un insieme di armoniche di ampiezza variabile, ma a determinati valori di frequenza. Quindi, ora prendiamo in considerazione ad esempio un segnale perfettamente sinusoidale. Il segnale perfettamente sinusoidale è come quello che vedete qui in questa diapositiva, che è indicato con y seno di ωt. Normalmente, al posto dell'anomalia θ è stato inserito ωt, perché si si suppone che questo segnale, ovviamente, abbia una pulsazione costante, ovunica, ben definita, che moltiplicato dal interno vi da proprio l'angolo, l'angolo α, normalmente l'angolo θ, che viene utilizzato per calcolare al pulsino. Che cosa succede se, per esempio, a questo segnale che è ovviamente periodico, aggiungiamo una componente con una pulsazione doppia rispetto alla pulsazione di partenza. In questo caso abbiamo che il risultato finale è da seno di ωt più seno di 2 ωt. e andando punto per punto a sommare queste due funzioni, viene fuori un segnale di questo tipo qua, a provare per credere. Cioè, basta fare questa operazione, insomma, con un sistema di calcolare, che ne so, con simuling, per esempio, oppure con macro, si vede immediatamente. Che cosa succede? Esce fuori un segnale che a noi già sembra abbastanza contorto, abbastanza non particolarmente significativo, se non fosse per una cosa importante, che comunque è periodico. Cioè, naturalmente mantiene una sua periodicità che è naturalmente di 2π greco e quindi è periodico. Questo può essere indicativo, può non esserlo, però è un dato di fatto che succede questo. Che cosa succede per esempio se ad un segnale di ampiezza pari a 3 seno di ωt, sommiamo un seno di 3 ωt. Cioè, in questo caso abbiamo un'ampiezza del segnale di partenza che è ampia 3 volte, un valore di riferimento qualsiasi, mentre invece il segnale che viene aggiunto, quello di colore verde, ha una pulsazione tripla rispetto al segnale di partenza e quello di ampiezza pari a 1. Come si vede in questo verso il risultato, la risultante assume un andamento che comincia, guarda un po' ad aspigliare quasi ad un'onda quadra. Qualcuno di voi potrebbe dire ma a me non mi pare l'opera un'onda quadra, però diciamo così c'è una zona dove più o meno c'è un appiattimento, una zona superiore, più o meno c'è un appiattimento e comunque rimane sempre di quella periodicità che è la periodicità di due opi greco. Allora, prima di andare a giocare ulteriormente con le armoniche, senza diciamo così approfondire, senza dimostrare certi passaggi, perché non spetta a noi fare questo passaggio, questa operazione, ricordiamo come una funzione periodica possa essere scomposta in tante armoniche. Quindi abbiamo visto che un'armonica, un segnale comunque periodico, può essere scomposto in tante armoniche, ma come fare a calcolare l'ampiezza di queste armoniche e la frequenza di queste armoniche? Allora, dai teoremi di Fourier si ricordava che un segnale periodico, y di t, qualsiasi, più importante che sia appunto periodico, può essere scomposto in una serie di termini. Quindi il primo termine ha un zero mezzi, che cosa rappresenta? Rappresenta il valore medio di questa funzione. Nei casi precedenti, nei casi che avevamo considerato prima, per esempio questo, il valore medio è evidentemente nullo, perché la funzione è tanto positiva quanto negativa, ossia l'area calcolata e sottesa dalla semionda positiva è uguale a quella negativa, quindi il valore medio di questa funzione è evidentemente nullo. D'altra parte, la somma dei valori medi delle singole armoniche è naturalmente nulla, perché sono tutte sinusoide, quindi viene anche questo fatto qui. Però, qualunque forma d'onda potrebbe, diciamo così, essere traslata verso l'alto o verso il basso, e quindi contenere anche un determinato valore medio. Quindi il primo termine è dato da A mezzi. Gli altri termini, invece, sono naturalmente periodici con il fattore K, quindi può essere un'armonica di ordine 2, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, e ciascuna armonica può essere, le armoniche possono essere sia dei semi che dei coseni, cioè ciascuna armonica può essere a sua volta, o partire quindi da zero, oppure essere spasata di P per 1,5 e quindi essere rispettivamente un seno con un seno. I vari fattori, A k e B k, si calcolano facendo delle operazioni che sono queste, che sono un'altra che la proiezione matematica della funzione di partenza sulle funzioni unitari se nel coseno. Ma in 11 la proiezione, cioè calcolare il valore scalare di quella determinata funzione, significa fare il prodotto integrale tra quelle due funzioni e vedere quanto vale il risultato. Quindi fare l'integrale da meno t mezzi a più t mezzi della funzione di partenza per la funzione unitare, che è il coseno, che è il coseno periodico di quella, che è appunto il coseno con frequenza che è multipla di k, quindi coseno di omega t, oppure coseno di 2 omega t, oppure coseno di 3 omega t, ogni volta che si fa questa operazione si può determinare alla fine il fattore per il quale rinnovare a moltiplicare con la singola armonica e individuare tutti i fattori A k e B k. Quindi, ora che sappiamo, diciamo che abbiamo ricordato qual è la tecnica per andare a calcolare i vari termini, A k e B k, vediamo per esempio di andare a calcolare le armoniche di una funzione di una tonda quadra, come questa qui. Allora, facendo le operazioni che abbiamo fatto precedentemente, troviamo subito, ma questo non c'è bisogno almeno di fare un calcolo, lo si vede subito, che il valore medio di questa funzione è nullo, quindi il primo numero, la con 0 mezzi, è assolutamente uguale a 0. Dopodiché notiamo anche che questa qui è una cosiddetta funzione dispari, cioè ha una determinante simmetria con l'origine. Ogni punto della funzione del primo quadrante ha un simmetrico rispetto all'origine nel terzo quadrante e la stessa cosa si può dire tra il secondo quadrante e il quarto quadrante. Questo fa di una funzione una funzione dispari. Una funzione pari è invece una funzione che ha per ogni punto nel primo quadrante un simmetrico rispetto all'asse delle ordinate rispettivamente nel secondo quadrante e naturalmente abbia ogni punto nel quarto un simmetrico nel terzo quadrante. Quindi, in buona sostanza, una funzione seno è una funzione dispari, una funzione coseno è una funzione pari. Allora, se la funzione di partenza è una funzione dispari, vuol dire che nel contenuto armonico di questa funzione non ci sono funzioni pari, quindi non ci sono coseni. e quindi saranno presenti soltanto i fattori BK, almeno tutti i fattori AK saranno tutti quanti uguali a zero. Quando valgono questi fattori, applicando quelle forme che abbiamo visto nella diapositiva precedente, è possibile andare a verificare che questi fattori sono uguali a 4 diviso pi greco per 1 su K. Cioè, la cosa più importante è che il primo fattore, cioè la prima armonica è uguale a 4 diviso pi greco e tutte le altre successive decrescono con 1 su K. E mancando anche i termini pari, rimangono soltanto 1, 3, 5, cioè tutte le armoniche dispari e... dispari? Questa volta i due termini coincidono nel senso che avrò soltanto i numeri dispari delle funzioni seno per il termine. Ecco allora che, se voglio magari ricattolare, utilizzando le varie armoniche della forma d'onda 4, dovrò andare a sommare una funzione seno di ampiezza uguale a 4 diviso pi greco con una funzione seno di ampiezza pari a 4 diviso pi greco per un terzo e con una pulsazione pari a 3 volte omega t. Un'altra funzione seno pari a 4 diviso pi greco per un quinto, quindi sempre più piccola, e con una pulsazione pari a 5 volte omega t. Quindi, mano a mano che la frequenza aumenta, si rinvicciolisce sempre di più l'armonica corrispondente. E l'idea di una serie positiva è arrivata a un certo punto che più di tre armoniche non si potevano disegnare, altrimenti la confusione sarebbe diventata tale da non permettere neanche di individuare le armoniche una per una, ma andandole a sommare ora puntualmente una per una, sommandole tutte quante, che cosa succede? Succede che il risultante di tutte queste armoniche assume questa forma, cioè sembra molto più somigliante a questa forma di un'onda quadra, eppure ci siamo fermati soltanto all'armonica di ordine 9. Quindi, naturalmente, è evidente a questo punto che siccome la serie di Fourier è una serie infinita, per ottenere proprio l'onda quadra dovrei andare a calcolare tutti i termini, da zero, al termine zero, che è il valore medio, fino al termine infinito, al che è evidente che la somma poi dopo va a convergere sulla funzione di partenza che è proprio l'onda quadra. Naturalmente, questo in pratica non si può ottenere, ci si ferma a un certo numero di armoniche in modo tale da approssimarsi meglio possibile alla funzione di partenza. Tutto questo perché? Perché approfittando spesso della linearità dei sistemi è possibile applicare il principio di sovrapposizione, ossia andare a calcolare gli effetti prodotti, che ne so, da un campo H, da una distribuzione di emozione B o qualunque altra cosa, di corrente, eccetera, eccetera, andare a calcolare gli effetti delle singole armoniche e poi dopo sommare gli effetti prodotti per capire qual è l'effetto complessivo. E mi rende che questa operazione non si potrebbe fare se il sistema non fosse lineare. Cioè la linearità del sistema ci permette di applicare il principio di sovrapposizione degli effetti e quindi andare a studiare gli effetti delle singole armoniche e poi dopo sommare l'intera di loro per vedere complessivamente che cosa succede. Perché dov'è che normalmente in una macchina elettrica, diciamo così, la macchina elettrica qualcuno di voi potrebbe dire ma a me non mi risulta che una macchina elettrica possa essere lineare, ha un sistema lineare. Perché tutti quanti lo sapete che il ferro, cioè i circuiti magnetici fatti in ferro sono di solito affetti da un problema di saturazione. Anzi, noi potremmo anche progettare dei circuiti magnetici privi di saturazione per esempio riducendo i valori di campo o i valori di induzione quindi mantenendoci lontani dagli effetti di saturazione. Però questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe comunque di avere una macchina elettrica abbastanza grande perché per ottenere questo fatto dovremmo aumentare la sezione e la lunghezza dei circuiti magnetici e questo non è economicamente vantaggioso. Però che cosa ci aiuta? Ci aiuta il fatto che nelle macchine elettriche è ovviamente presente un traferro cioè uno spazio di aria che è necessario di introdurre perché è ovviamente obbligatorio avere un'abilità tra statore e rotore altrimenti uno dei due non riesce altrimenti non riusciamo ad ottenere un movimento relativo tra i due e quindi la presenza di aria ci aiuta ad avere un circuito magnetico complessivo generale della macchina elettrica che ha meno diciamo così fenomeni di saturazione cioè meno affetto da fenomeni di saturazione più nei punti di funzionamento del circuito magnetico che noi andremmo a verificare i valori di B nel grado del campo se vengono di solito abbastanza lontani dalla saturazione e comunque anche se fossimo in prossimità della saturazione insomma certo il sistema non sarebbe particolarmente lineare però in generale queste considerazioni rimangono ugualmente valide cioè il principio di sottossione degli effetti su una macchina elettrica rimane ugualmente valide quindi ricapitevando questo ci permette di quando abbiamo delle distribuzioni di campo oppure delle distribuzioni di intruzione di corrente eccetera che non sono sinusoidali che sono difficili da trattare dal punto di vista matematico noi possiamo comunque scomporre queste distribuzioni in armoniche e fare i calcoli sulle singole armoniche e poi dopo sovrapporre gli effetti prodotti dalle singole armoniche questo ci aiuta moltissimo nella soluzione dei modelli questa è una diacositiva che potremmo anche diciamo così saltare non è particolarmente essenziale è un fatto puramente matematico sostanzialmente il singolo di fattore dato che naturalmente noi ci ricordiamo queste espressioni qui una delle espressioni inversa di Euler che indica che ciascuna somma di un coseno di affa più meno j seno di affa può essere espressa come un esponenziale è una cosa abbastanza e allora si capisce come due una coppia di termini a k per seno di k omega t più bk per coseno di omega t messi insieme posso in qualche modo essere rielaborata matematicamente per essere riscritta come in termini ck per adottare k ecc 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 questo naturalmente permette di scrivere questa relazione questa relazione qui in un modo più compatto utilizzando gli esponenziali compressi però insomma sostanzialmente noi di solito ci limitiamo ad usare questa è molto più comoda anche perché avendo a che fare sempre o con funzioni dispari o con funzioni vari uno di questi due termini è nullo quindi c'è tutta comunque utilizzato questa relazione queste sono le formule che vengono utilizzate per calcolare i termini c k rispetto a k e b k e con questo abbiamo terminato questa lezione sull'analisi armonica allora quindi se un segnale periodico viene scomposto in armonica ad esempio facciamo fin di avere un segnale periodico in una cosa del genere quindi sappiamo che in questo segnale armonico così come l'ho disegnato più o meno nel tempo t questo è un s di omega t adesso diciamo che sono presenti due armoniche c'è una fondamentale queste armoniche vengono rappresentate nel domenio della frequenza oppure nel domenio della pulsazione se è presente qui ci sono due segnali che naturalmente uno avrà una pulsazione omega con 1 e un altro avrà una pulsazione omega con 2 che probabilmente è tre volte maggiore a omega con 1 circa 4 e tre volte a omega con 1 quindi una rappresentazione tipica dello spettro delle frequenze è ordinare su un'asse che è quello delle frequenze degli indicatori che sono proporzionati rispettivamente all'ampiezza a con 1 e all'ampiezza se ti fosse un più grande a con 2 a con 2 questa è la omega con 3 per tonali quindi questa è la terza armonica l'armonica relativa a a con 2 è nulla così come nulla a con 4 così via quindi questo è un metodo che si fa presentare questo questo diagramma rende il nome proprio di spettro armonico della forma durga feriosida così abbiamo visto che è possibile realizzare un campo rotante mediante tre avvolgimenti disposti per lo spazio accendere unigato perdonatemi se questa frase ricorre così tanto spesso ma è la base di tutto come l'anno a me noi abbiamo schematizzato questi avvolgimenti con dei disegni abbiamo fatto il disegno di una spinale qui un'altra qui un'altra qui un'altra qui quindi sostanzialmente noi ci siamo preoccupati poi da un punto di vista pratico come questi avvolgimenti vengono realizzati sulla periferia del trasetto cioè sulla periferia di macchina di stradone e sulla periferia di macchina di stradone quindi affacciate al trasetto che cosa allora concentriamo la nostra attenzione soltanto su uno di questi avvolgimenti sappiamo che dobbiamo fare tre però come cominciamo a farne a vederne uno per uno il primo avvolgimento solo il primo avvolgimento cioè quello che io ho disegnato alla destra del trasetto positivo potrebbe essere realizzato stiamo ancora ragionando su schemi quindi non è la realizzazione fisica definitiva ma è soltanto un avvicinarsi per passi alla realizzazione definitiva il primo avvolgimento potrebbe essere realizzato con delle matasse cioè un insieme di spire ogni matasse è un insieme di spire vi ricordate ne abbiamo già parlato con delle matasse avvolte lungo la periferia di macchina più o meno in questo modo cioè immaginiamo che nella parte superiore ci sia una corrente che entri longitudinalmente lungo la macchina e che entri nella lavagna quindi qui dovrei disegnare delle crocette volendo seguire diciamo così quella convenzione che vede una corrente entrante nella rappresentazione bidimensionale di una lavagna e qui dovrei disegnare dei puntini per dire guardate qui la corrente esce quindi se faccio questo modo qui avrei un campo che un campo di corrente che ha un andamento circolare e guardando dalla posizione nella quale mi trovo io il campo prodotto il campo H prodotto ha una direzione che si allontana da me perché il verso è quello orario così come lo vedo io quindi il campo H prodotto da un solenoide dove la corrente circola in senso orario esce dalla dalla mia punto di vista e sia lontana verso la vostra sinistra va bene così ci sono dei dubbi su questa quindi ecco il significato di questa freccia che vedete qui è la direzione del campo H prodotto da un avvolgimento dove la corrente circola in senso orario se la guardo da questo lato è evidente che se la guardassi da quest'altro lato qui cambierebbe tutto la corrente che io vedo la potrei votare in senso orario ma il campo del interverso di me naturalmente questo campo qui noi l'abbiamo sempre immaginato prodotto da una corrente sinusodale quindi una corrente che una volta è positiva e una volta è negativa e anche in questo caso è evidente che se la corrente è negativa noi non cambiamo il nostro verso convenzionale di vedere la possibilità della corrente ma quando la corrente ne arriva anche il campo sarà rivolto nel verso opposto vissi ora immaginiamo questa situazione ripetuta esattamente tre volte ora è evidente che se vogliamo ripetere la stessa cosa per un altro avvolgimento ma disposto a 120 gradi rispetto al primo allora dovremmo disegnare altri magari tre quattro cinque soli piccoli due altri tre puntini qui e altre tre crocette qui di colore verde e dovremmo anche disegnare altre tre puntini qui e altre tre crocette in quest'altra posizione qui in modo tale da produrre dei canti che ovviamente anche loro sono sfasati di 120 gradi nello spazio quindi quei tre simboli che avevamo disegnato all'inizio cioè questi tre simboli disegnati semplicemente con delle spirali ora sono diventati solo diciamo così aggardati hanno preso lo spazio della macchina hanno trovato una collocazione fisica più definita che è questa ma la sostanza delle cose non è assolutamente cambiato cioè non dovete immaginare che sto stravolgendo il significato qualche significato particolare qualche definizione particolare è assolutamente la stessa cosa di disegnare in quel modo anche in questo caso abbiamo sullo statore le stesse immagini guardate non guardate quello che c'è sul rotore c'è questo grosso questa parte qui per il momento fate fin cancellate la vostra fate fine di non vederla sullo statore sono presenti ancora quei cerchietti che stanno indicando le correnti che entrano le correnti che escono vedete i puntini i progetti i progetti i puntini i puntini i puntini rappresentano appunto quei gli avvolgimenti di statore che sono percorsi dalla correnta si usano ora che ci mettiamo che cosa ci sarà sul rotore sul rotore ci deve essere per forza un altro oggetto che produce un campo magnetico che ha una determinata direzione è un determinato verso e non solo ma siccome il rotore è il rotore deve essere in grado di ruotare cioè deve avere una labilità in grado di permetterne il modo circolare quindi una delle possibilità che abbiamo è una delle tante poi se qualcuno di voi le volesse immaginare un'altra va benissimo la cosa più importante è l'effetto finale cioè produrre un campo un campo che ha direzione per esempio verso l'afto nord e sud e come lo possiamo produrre questo campo qui questo campo qui lo possiamo produrre utilizzando un rotore con una forma di questo tipo qui che si chiama un rotore con espansioni corali quindi un rotore che non è circolare non è liscio non è uniforme e un avvolgimento quindi una seconda una quarta corrente che circola intorno a questo rotore in modo che la produce una bocca appunto diretta dal basso verso l'alto questo oggetto qui con tutta la corrente dovete immaginarlo in grado di poter ruotare all'interno della macchina elettrica invece dell'agvolgimento indovinate un po' che cosa potrei usare io mi può dare uno spunto potrei usare dei magneti permanenti in questo caso qui se usassi il magneti per me potrei risolvere anche il problema delle perle del giallo che ovviamente avrei se facessi circolare in questo agvolgimento una propenda elettrica o genere il fatto di dam ha una sua resistenza e quindi avrei anche le le di questo questa immagine qui vi vi vedete un giotone e anche uno statore con una sola non lo dico una sola coppia polare cioè prendiamo il giotone quanti poi c'ha un nord e un sud quindi una siccome il nord e il sud stanno sempre insieme non è che c'è il nord e il nord e basta vuol dire che c'è una coppia polare e questo è il minimo possibile potrei avere anche un giotone con un nord e un sud e anche un nord e un sud quindi due coppie polare lo statore anche potrebbe avere non tre avvolgimenti potrebbe avere sei matasse in grado di produrre allora un nord e un sud è un nord e un sud vorrei ricordarvi che torniamo un attimo indietro in una situazione del genere così tre avvolgimenti percorsi dai soliti correnti che ora è inutile che le ripeto ogni volta come devono essere tra le loro producono un campo rotante con un nord e un sud quindi anche se sono tre avvolgimenti producono hanno una disposizione tale da avere un doppio avvolgimento però io potrei mettere sei avvolgimenti e produrre anche in questo caso qui due coppie polari il minimo ovviamente è uno cioè meno di uno in se lo so quindi come potrei sul rotore ottenere una configurazione in grado di avere due coppie polari beh semplicemente duplicando quelle strutture diametriche che abbiamo visto poco fa quindi ci sono che si deve avere due espansioni polari e quattro espansioni polari e degli appoggiamenti che produrranno un nord in sud un nord in sud ottenendo in questo modo due coppie polari la stessa cosa potrei ottenerla anziché con un rotore fatto con espansioni polari con un rotore fatto in modo liscio o come si dice isotropo in questo caso qui è anisotropo e quell'altro caso lì iso cioè sono vari termini che spesso si utilizzano per indicare un rotore liscio rispetto a un motore totale di espansione polari ma la sostanza poi alla fine non cambia cioè io qui ho degli avvolgimenti in grado di produrre due nord e due sud anche qui ho due avvolgimenti in grado di produrre due nord e due sud l'appetito che mangiando è perché se ne fai una coppia polari ne fai due ma che non ne puoi fare anche tre e non quattro e non cinque e così via sì e la risposta è esatta sostanzialmente e infatti qui viene rappresentato un rotore dotato di tre coppie polari un nord un sud un nord un sud un nord un sud sia la versione con espansione polari e sia la versione liscia trastatore rotore ci deve essere sempre un accoppiamento magnetico questo accoppiamento magnetico deve essere in grado di produrre una coppia se il numero di coppie polari dello statore non fosse uguale sempre al numero di coppie polari di questo rotore io potrei avere anche una coppia ma non è una coppia che si produce in modo uniforme per ciascuna coppia polare per ottenere una coppia diversa da zero sempre in qualunque situazione io devo fare in modo che il numero di coppie polari di statore deve essere uguale al numero di coppie polari del rotore quindi se faccio un rotore con tre coppie polari devo fare uno stradone con tre coppie polari è un po' come le ruote di un ingranaggio che poter le due ruote in questo modo per potersi ingranare devono avere lo stesso passo se non hanno lo stesso passo non riesco a ottenere un accoppiamento meccanico nelle ruote in data se lo statore e il rotore non hanno lo stesso passo io non riesco ad ottenere un accoppiamento magnetico uniforme tra le due situazioni magnetiche tra le due configurazioni magnetiche si vede una distribuzione si cosa è rappresentato qui è rappresentato lo statore la parte di statore e la parte di rotore però è una rappresentazione molto particolare una rappresentazione linearizzata cioè anziché disegnare lo statore con uno schema circolare è stare disegnando lo statore immaginandolo rettilineo questo è comodo perché ci permette poi dopo di fare dei disegni dei diagrammi utilizzando le tecniche alle quali non siamo abituati cioè sistemi di assi cartesiani l'asse cartesiano soprattutto l'asse delle x ovviamente per noi è l'antilineo quindi se noi dovremmo andare a disegnare la distribuzione di un qualche cosa lungo il traferro ebbè ci verrebbe un po' difficile andare a fare un disegno muovendoci lungo il traferro quindi lungo una dimensione circolare quindi è molto comodo fare una linearizzazione della macchina elettrica quindi questa fascia questa banda superiore sta a rappresentare lo statore che ovviamente è circolare perché non è una nostra rappresentazione centralineale nella parte inferiore questa parte qui questa rappresenta il rotore è un rotore con due espansioni polar quindi assolutamente diciamo che stiamo facendo una rappresentazione di questo oggetto in buona sostanza solo che appunto l'abbiamo linearizzato c'è un nord e c'è un sud da qui a qui sono passanti via passanti in man del tempo però diciamo da qui a qui ci sono due pi greco quindi la simmetria della macchina si ripete e che cosa ci stanno qui ci sono rappresentate anche le linee di flusso del campo prodotto dal rotore ancora una volta questa stessa figura che vediamo qui dove ci sono disegnate con colore viola le linee di flusso le stesse linee di flusso sono state ridisegnate qui ma ovviamente dobbiamo tenere conto del fatto che la macchina è stata deformata ed è stata linearizzata ci chiediamo ma se io avessi uno statore lineare e due espansioni piastre così quindi un nord un nord e un sud qui due espansioni piastre le linee di flusso avrebbero fatto il percorso in questo di un p e mi sarei chiesto se lungo il traferro cioè lungo questa linea che è 1 teta come poter rappresentare il flusso il valore la distribuzione di flusso qui perché in questo caso mi rendo conto che le linee di flusso sono uscenti dall'espansione colare nord ed entrando nell'espansione colare sud quindi partendo da questo punto qui dove sicuramente il valore di induzione b è 0 vedo che l'induzione b mano a mano che percorro questa linea l'induzione b mano a mano comincia a diventare particolarmente intensa quindi posso immaginare una cosa del genere dopo dopo di che l'induzione b si attenua di nuovo quindi non c'è più visita non ci sono linee di flusso quindi l'induzione b si attenua di nuovo e poi il valore dell'induzione b riprende nel stessa modo con cui si era sviluppata sull'espansione colare nord su quella di una consegna opposto e quindi immaginiamo che sono adesso quindi qui è l'angolo teta questo è quello che è la distribuzione del teta beh certo il disegno non è di più di dover farlo un po' più un po' più ampio esce fuori una distribuzione di induzione che è più un'onda quadra che piuttosto è una forma d'onda sinusità ma questo perché è successo è successo soprattutto perché ho scelto una forma dell'espansione colare che è di una forma squadrata una forma con tagli netti ben definiti insomma in questo modo qui il che se la volessimo rappresentare su un sistema circolare dovrebbe essere una cosa del genere più o meno il disegno non è proprio ottimale potrebbe essere una cosa del genere perdonate la qualità del disegno però insomma allora che cosa vuol dire vuol dire che il trasero però che cosa volevo rappresentare volevo rappresentare che la lo spessore del trasero in questa zona è sostanzialmente una costante non cambia così come non cambia qui il trasero qui e qui è più lo stesso il trasero qui e qui è sempre lo stesso ovviamente il trasero in questa zona qui è enorme però insomma sotto l'espansione il trasero è un sostanzialmente non lo stesso qual è la differenza che vediamo però in questa fotografia qua cioè in questa in questa finura è che la scarpa polare è stata modellizzata che è stata data una forma diversa da quella che gli ho dato io alla lavagna in questo caso qui il trasero è più alto qui è molto stretto e qui riprende una certa ampessa quindi il progettista della macchina che cosa ha fatto non ha fatto altro che ridefinire la geometria delle espansioni polari in modo tale da condizionare la distribuzione di induzione al trasero e fare in modo che la distribuzione di induzione al trasero fosse più diciamo meno variabile in queste zone qui e diventasse più simile a una sensore e quindi una distribuzione di induzione che ha diciamo una somma più raccordata e con ovviamente a questo punto siamo due visto che l'abbiamo studiato un contenuto armonico di spazio molto più basso rispetto al caso precedente ecco per cui la distribuzione di induzione derivante da una configurazione di questo tipo qui è esattamente questa che è quella rappresentata in questa figura allora consideriamo due vuote ingranate per il loro quindi chiamiamo questa vuota 1 e questa qui vuota 2 che la vuota 1 abbia raggio R1 e la vuota 2 abbia raggio R1 e per queste condizioni cosa abbiamo? abbiamo che una delle invarianti è la velocità del punto di contatto cioè la velocità periferica di ciascuna delle due ruote quindi sponiamo che questa sia la velocità B e avremo quindi che la velocità angolare omeda 1 sarà data sarà data dal raggio R sarà data dalla velocità B 1 diviso il raggio R1 della velocità B mentre la velocità angolare omeda 2 sarà data sempre da B diviso R perché dividendo membro a membro un sottaggio 2 abbiamo che omeda 1 sta a omeda 2 come R sta a e questa è una prima generazione ovvia ma sicuramente la da ricordare mi ricorda invece che sul punto di contatto P applicassimo una forza F allora questa forza F risulterebbe che il valore di coppia C1 sulla quota del data numero 1 pari a S pari a S per R1 mentre il valore di coppia C2 sarebbe uguale al valore di S per R2 in questo caso qui dividendo membro a membro avremo che il rapporto tra C1 e C2 è proprio qua R1 e R1 è quello che già sapevamo dalla fisica sappiamo che la seconda equazione della dinamica si può scrivere con la coppia C in generale come direzio J per D omega su D P se riscriviamo questa formula solo per la quota 2 possiamo scrivere che C2 meno base D2 per D omega 2 su D P naturalmente J2 a questo punto sarà uguale a C2 diviso D omega 2 D P ma se andiamo a sostituire queste relazioni in C2 e in omega 2 avremo che questa qui sarà uguale a C1 per L1 su R2 A quadrato accogliata R2 senza quadrato diviso D2 DT di omega con 2 ma omega con 2 vuole omega con 1 per R1 per R2 diviso R2 e quindi questo è uguale uguale a C1 su D su DT per 1 per omega con 1 per R2 su R1 in quadrato per questo termine qui che cos'è? non è altro che il momento di inerzia visto dalla ruota 1 cioè il momento di inerzia G2 è riportato alla ruota 1 e quindi lo possiamo indicare come G2 primo lo possiamo indicare come G2 primo in definitiva avremo che G quindi senza quadro quindi avremo che G2 primo sarà uguale a G2 per R con 1 acqua letto diviso R con 1 acqua letto e sping quindi se consideriamo il momento di inerzia G1 il momento di inerzia complessivo visto dall'asse applicato alla ruota G1 avremo G1 più riportato di inerzia della ruota 2 riportato alla ruota 1 cioè G2 c'è uguale G1 più G1 2 3 di iner terroristima subito 3 5 luk in manos 2